...che si vince insieme, non ci sono nemici da tutti, ma si vince qui insieme, qui lo sport è inclusivo in più, non sconfittivo in più. Ora noi vorremmo vincere insieme, cioè i ragazzi che giocano, i dirigenti, gli allenatori, la propria, la società civile, la città, se siamo insieme vinciamo tutti. Quando si dice che all'oratorio vincono tutti, non vuol dire che va tutto bene, ma è un luogo dove tutti possano crescere e far del proprio meglio. Quindi tutti per noi sono i benvenuti, vorremmo che tutti fossero protagonisti di quello che fanno e non spettatori. Quindi oggi è molto bello essere qui perché diciamo, in particolare a un nostro amico Baccheri, ma a tutti, che questa è una casa per tutti. E siamo pronti a difenderla e vogliamo che resti così. Quindi grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.